Ciao a tutti ragazzi, siamo su Raybon6 e siamo pronti per farci un'altra partitozza. Questa volta non faremo una partitozza classificata, ma ci facciamo una partita libera. Allora, andiamo nei panni di Buck e proviamo subito a vedere cosa riusciamo a fare oggi. Trovate la posizione del contenitore di Biorischio. Cerchiamo il contenitore ragazzi. Vorremmo andare al piano superiore. No cazzo ragazzi, siamo incastrati qua. Ottimo lavoro, contenitore di Biorischio localizzato. 10 secondi all'inserimento. Eccoli qui ragazzi, eccoli qui. Inserimento tra 5 secondi. Raggiungete la posizione del contenitore di Biorischio. Dobbiamo stare attenti perché qui potrebbero anche uscire fuori. Andiamo dal retro. Attenzione, eccoli lì. Eccolo! Eccolo! Attenzione ragazzi. Un nuovo caricatore! Granata accecate! Attenzione ragazzi. Spostiamoci. Novo caricatore! Si va in onda! Tornate a occuparvi del contenitore dopo averne un... Attenzione ragazzi, attenzione. Carica attiva! Carica attiva! Cazzo! Eccolo qui! Porca miseria! Mi ha fregato così. Gli è bastato un colpo. Dimenticatevi del contenitore. Attività nemica, neutralizzate la minaccia. Attenzione bello, attenzione, attenzione! Grande, ombre! Guardate come agisce con cautela. A differenza mia. Attenzione. Attenzione bello. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Dietro quella barriera non c'è nessuno. Wow! Cazzo, attento! Attento che è stato beccato! Nooo! Vediamo quest'altro se riesce a farci vincere sto round ragazzi. Mamma mia, attenzione. Attenzione, attento, 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 attento. È lì dietro. Eccolo, 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 eccolo. Grande, ombre! Vinciamo il match, vinciamo il match. Grande, Dario. Round due. Dobbiamo proteggere il contenitore. Bene ragazzi, fornitevi. Fornitevi ragazzi. Eh, che cazzo. Lo odio sto drone. Ancora dieci secondi. Ricarico! Cinque secondi. Nuovo finito ricarico. Proseggete il contenitore di bioniccio a tutti i costi. Ricarica. Muro rinforzato! Inbosca la pronta. Stato a salare. Non lo so. Vedi enti pronti! Ok. 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 Che cazzo sto drone di merda! Ma. Cambio caricatore! Sì, sì. Grazie a tutti. Siamoci attenti ragazzi. Oh cazzo, ma dai! Ultimo attaccante rimasto in vita. Vediamo cosa sta combinando questo ragazzi. Sei in una zona controllata dal nemico, lasciala subito, la tua posizione è stata compromessa. Attenzione ombre. Guardate questo cosa sta combinando. Siamo a 15 secondi. Il tempo scade tra 10 secondi. Attenzione ragazzi. Ancora 5 secondi. Round vinto. Round 3 ragazzi. Dovete trovare il contenitore di mio rischio. Continitore trovato ragazzi. 10 secondi all'inserimento. C'è quello che mi aspetta ragazzi. Eccolo che mi aspetta. 5 secondi all'inserimento. T'ho preso ciccio. Raggiungete la posizione del contenitore di mio rischio. Andiamo. Attenzione cazzo. Bastardi. Raggiungete la posizione del contenitore di mio rischio. Raggiungete la posizione del contenitore di mio rischio. vieni fuori bello vieni fuori bello no che bastardo che bastardo ragazzi partita è andata male proprio ottenete il contenitore lasciate perdere il contenitore ricarico drone attivato attenzione cosa sta combinando questo attenzione qui sono tutti morti tutti morti ragazzi qui dentro 15 secondi cazzo ragazzi rimangono 10 secondi mancano 5 secondi stai attento ombre t'ha fregato t'ha fregato attaccante neutralizzato finisce così ragazzi round 4 barricate la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio ok va bene barricchiamo tutto ragazzi bravo ombre bravo ombre biazzato il dispositivo rimangono 10 secondi ADD attivo state all'alare il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio siamo a 5 secondi il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio è ora di riarredare dispositivo piazzato struggere per vincere dispositivo in gioco porta contrappola state alla larga dispositivo in gioco sto cazzo di drone porca miseria ragazzi vieni fuori io mi avvicino ormai cambio caricatore siamo nella merda più totale ormai 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 cazzo di cellulare stai attento bello stai attento bello eccolo lì eccolo lì wow ma un perso ragazzi già siamo ai supplementari dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio difendete la stanza corazzatevi un po' piazzo il jammer jammer pronto alla stanza gioco corazziamoci ragazzi cambio caricatore cambio caricatore değiştivo il jammer cambio caricatore Cercheranno di localizzarlo durante l'assalto Nuovo caricatore Ragazzi sono sfigato totalmente Sono sfigato totalmente Dispositivo Rilevata bella Ce le hanno distrutte praticamente tutte ragazzi Attenzione Ultima telecamera a disposizione Ultima telecamera a disposizione ragazzi Non si rilevano a rilevare un nemico Attenzione Sono all'esterno Sono all'esterno Individuato Tenete ragazzi Individuato nemico ragazzi Game over Ok Ricarica Attenzione 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 che potrebbe essere una trappola Attenzione Attenzione Vai che ce l'hai fatta bello Ce l'hai fatta Sei un grande off Di fronte a te No Ultimo attaccante Rimasto in vita Mamma mia ragazzi Che suspense Ecco ti ecco ti ecco ti ecco ti ecco ti Grande ombre Sei un grande ombre Concludiamo così la partita Con 3 a 2 Noi abbiamo concluso veramente un cacchio ragazzi Siamo morti 5 volte Abbiamo fatto soltanto un'assistenza La partita è andata male Tutta quanta Porca miseria E niente ragazzi Concludiamo qui lo sfogo quotidiano Con Rainbow Six E' meglio che non guardate i miei punteggi Perché faccio cagare E ci vediamo al prossimo appuntamento Ciao a tutti